Estra si conferma con questo bilancio un'azienda che è strutturalmente solida, che esprime grandi competenze manageriali, una classe dirigente, come si direbbe, che veramente riesce a fare buone acquisizioni e anche a ben gestire. Brillano i risultati consolidati del gruppo Estra, la multiutility dell'energia, nonostante l'emergenza pandemica. Il CDA del gruppo, che fa capo a 139 comuni toscani e marchigiani attraverso le società Coingas, Consiag, Intesa e Viva Servizi, ha infatti approvato i dati del bilancio 2020 che indicano come, nonostante i ricavi siano scesi di quasi il 23%, il margine operativo lordo consolidato ha segnato più 23%, pari a 106,7 milioni e l'utile netto consolidato è più che raddoppiato schizzando a 24,6 milioni più 107%. Un anno particolarmente difficile per tutta la situazione economica a livello nazionale e internazionale. Il settore energi ne ha risentito a livello globale, già dalla crisi dei mercati cinesi, che poi si è trasferita anche in Europa e in Occidente. A causa della, diciamo, crisi pandemica abbiamo subito un calo di fatturato molto importante, ma devo dire che siamo molto contenti, grazie anche alle performance operative, di aver raddoppiato di fatto gli utili. Diciamo, non è solo dovuto il calo del fatturato al calo dei prezzi della materia prima, ma anche al lockdown di molte industrie italiane che per noi, come dire, contribuivano a un importante fatturato anche se con bassissime marginalità. Diciamo, questo combinato disposto, in più alcune partite straordinarie e non ricorrenti di natura fiscale, legata anche al decreto Covid, ci hanno fatto schizzare l'utile e questo è di fatto uno dei migliori bilanci di Estra da quando è nata, negli ultimi 10 anni. Un utile netto consolidato di 24,6 milioni che di fatto più che raddoppia il risultato in favore dei comuni. Ora dovranno decidere i soci nella prossima assemblea che si terrà a metà aprile quale sarà il dividendo. Noi di norma, come CDA, proponiamo un 75%. Se questa percentuale fosse accettata i comuni potrebbero godere di 15 milioni e mezzo circa e quindi sarebbe un ottimo risultato rispetto all'anno precedente, lo nazionale. Cosa c'è nel futuro di Estra? Nel futuro di Estra c'è una buona gestione dei tanti acquisti fatto. Io non sono tra quelli che vuole continuare ad accelerare, serve razionalizzazione e prudenza. Siamo in una fase transitoria dove però un'azienda come la nostra, che si occupa di energia, di ambiente, di rinnovabili, di efficienza energetica, è pienamente al centro di una rivoluzione economica e ambientale a cui dobbiamo partecipare. Con il passo alpino, con prudenza, dopo aver fatto le corse, oggi ci dobbiamo consolidare e guardare a nuovi orizzonti in una Toscana che avrebbe bisogno di una grande multiutility dei servizi pubblici e parapubblici.